Identità o alterità, dialogo o discriminazione. Si è parlato di questo nel convegno organizzato dall'Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza, nella Romagna del Liceo Zuni, che festeggia i suoi vent'anni di attività segnati da una moltitudine di attività culturali ispirata al dialogo fra saperi e editrice della prestigiosa rivista Matesis. Diversi studiosi si sono confrontati sui temi dell'identità e dell'esclusione culturale, più che mai attuali nel dibattito odierno. Dopo i saluti del dirigente del Liceo Compartecipe dell'iniziativa, Roberto Cesaraccio, la breve introduzione della presidente dell'ASFES, Irina Ruiu, che ha sottolineato l'urgenza di una riflessione per una cultura della convivenza civile orientata dal senso della responsabilità, davanti allo spregio e all'umilazione del diverso, evidente anche negli sproloqui dei social. Il genetista Paolo Francalacci, mostrando i risultati di studi maturati nell'Università di Cagliari, ha sottolineato come l'identità genetica di ciascuno di noi non è altro che un miscuglio di millenni di migrazioni e incroci genetici. Federico Francioni, direttore della rivista Matesis, ha ripercorso il pensiero filosofico sull'identità, dove tale concetto non deve essere visto in negativo, anzi affermato, ma come risultato e impulso per un dialogo con l'altro. La filosofa Giuliana ma hanno mostrato il pericolo attuale della perdita di una solidità nei rapporti interpersonali, con una patologica proiezione di onnipotenza all'io e un rifugio nel noi limitato ai rapporti con i più simili. Francesco Bino, esperto della cultura indiana, ha evidenziato i cambiamenti in atto nel subcontinente asiatico, da una politica inclusiva e tollerante, l'ascito di Gandhi, all'attuale tendenza delle classi dirigenti verso una identificazione dell'India con l'antica religione induista. Anna Grazia Russo, rappresentante di Amnesty International, ha sottolineato la tendenza dei gruppi culturali ad una vera dissonanza cognitiva che spinge le persone a non accogliere nulla di ciò che stride con la propria concezione del mondo, alla quale concorrono le fake news e la disinformazione corrente sul web. Alle relazioni è seguito un dibattito aperto che ha portato ulteriori riflessioni.